Ciao a tutti! Su Arte è anche per te è arrivato il momento di parlare di amore. Infatti tra un pochettino si festeggerà il San Valentino e così ho avuto l'originalissima idea di farvi vedere un pochettino di opere d'arte che richiamano quel sentimento mai andato perduto che è appunto il sentimento dell'amore. San Valentino è in realtà una ricorrenza che appartiene al calendario delle festività cristiane. Infatti San Valentino, San Valentino da Terni, è un santo martire cristiano che muore proprio il 14 febbraio del 273. È santo martire vescovo di Terni che viene ricondotto all'amore proprio per reso quindi il protettore degli innamorati proprio perché numerosi suoi miracoli riguardano quello che è la sfera dell'amore. Uno dei tanti, quello che forse a me rievoca più la festività di San Valentino è quello che vede appunto il santo avvicinarsi verso una coppia che discuteva e farli riconciliare semplicemente porgendo loro una rosa dicendo loro di stringerle insieme e in quel momento il miracolo avviene nell'incorniciare appunto questa scena da una serie di piccioni che si misero a tubare tutta attorno alla coppia che vedendo questa scena così poetica e magica andarono via riconciliati. Proprio da questo episodio si pensa possa nascere anche i piccioncini innamorati e quindi vedete come quello che la nostra cultura moderna fa diventare comunque qualcosa una festività di estremamente consumistico in realtà affonda radici ben solitane e affonda radici religiose in qualche maniera che poi comunque possono essere come il Natale lasciate stare per una vera più consumistica della della festa. Ognuno la vive un po' come vuole si potrebbe anche dire che non bisogna aspettare una festività per essere o più buoni come il Natale o più innamorati come San Valentino ma a mio modo di vedere c'è sempre l'opportunità di fermarsi a riflettere e se una festività ce ne dà l'occasione perché non approfittare di quel momento per fare un attimino il punto della situazione e per dire un grazie alla persona che amiamo semplicemente fermarsi sorridere e dare un bacio alla persona che si ama. Io in questo momento l'ho mandata alla mia e adesso vediamo insieme la storia dell'arte e i baci più belli che secondo me ci regala. E partiamo la nostra carrellata di baci nel latte da uno dei miei baci preferiti, quello che ci regala René Magritte con Il bacio degli amanti del 1928. Magritte, suo realista, è il portatore dell'automatismo psichico puro in cui l'inconscio, quella parte che è presente solamente quando, è presente in maniera naturale, così spontanea, solamente quando sogniamo si rivela anche nel momento della veglia e qui lui immagina questi due amanti che si baciano divisi da un velo bianco, un velo bianco che impedisce la comunicazione tra i due ma impedisce anche la comunicazione dei due con lo spettatore. Questo velo bianco che è ricorrente nelle opere di Magritte si pensa che questa cosa possa derivare da uno shock di età adolescenziale del pittore stesso, il quale vide la madre rinvenuta dal fiume Sambre morta suicida con la camicia da notte che le copriva appunto la faccia a mo' di velo bianco. Però il velo è anche un elemento simbolico molto forte che si può distaccare da questo episodio e che fa diventare invece simbolicamente un gesto così usato come il bacio, così conosciuto, un qualcosa invece di misterioso, di insolito, di sospeso e nello stesso tempo interrompe la comunicazione tra due amanti e tra gli amanti e lo spettatore e mette sotto quel velo qualunque cosa la nostra coscienza voglia metterci, la la nostra coscienza sopita voglia immaginare. Io trovo questo quadro un quadro veramente di ampia lettura, ognuno può immaginare sotto quel velo bianco quello che vuole, è un quadro aperto, non si sa cosa c'è sotto quel velo bianco, non si sa chi c'è sotto quel velo bianco, volendo dare un ampio respiro potrebbero essere anche due uomini, due donne o due persone che immaginificamente vediamo come bellissime o bruttissime o semplicemente l'amore, quell'amore così sublime che la corruzione del reale interrompe e questa corruzione del reale viene identificata con quel velo bianco di cesura tra le due labbra. Del simbolista Edward Munch è il secondo bacio da me preferito, il bacio del 1892, dove a due figure decentrate è data la responsabilità di rivelare la passione di un bacio, una passione che è fatta di vita, di morte e di angoscia, una passione che è relegata ai margini dell'opera, mentre al di fuori della finestra il mondo scorre la sua vita palese come tutti i giorni e questi due amanti avvolti in questo bacio come se fossero risucchiati dentro dallo stesso bacio che non è più un momento solo di passione ma è anche un momento di lotta, una lotta interiore tra ciò che si deve e ciò che invece si sta consumando in questa stanza. Vediamo che le due figure sono unite nel turbinio della passione, nello stesso tempo unite nell'oscurità di questa passione che le sta avvolgendo, è un bacio pieno di peccato, è un bacio pieno di malizia, è il bacio del non doversi baciare ma è il bacio del voler consumare questo amore, nell'intimità rubata al mondo, nell'intimità di una stanza che cela agli altri quello che per due individui è tutto l'universo. E affidiamo al grande Picasso e al suo bacio del 1969 il messaggio dell'amore come passione carnale, come qualcosa da consumare ed ecco che qui i due amanti sono animali famelici che si sfamano del loro bacio, dove c'è un senso dell'amore tragico, spietato, carpito dal gesto sensuale del prendere dall'altro. E vediamo che qui non è neanche un amore armonico dato da due figure anche della stessa età, lui molto almeno da quelle che sono le caratteristiche somatiche, calvo, brizzolato, più grande di lei, barbuto, così avidamente portato sulla figura della giovane donna di cui trae goduria e godimento dal carpirle appunto questo bacio. È un bacio tra quelli che abbiamo visto forse più carnale, più reale di quanto si possa intuire dalle forme cubiste appunto del pittore. È il bacio della realtà, il bacio della consumazione dell'atto avido portato avanti proprio per il soddisfacimento del piacere carnale. E non poteva mancare in questa carrellata di baci della storia dell'arte il bacio forse più conosciuto della storia dell'arte, il bacio di Hayes del 1859. Hayes, pittore italiano, emblema del romanticismo, inquadra Paolo e Francesca nel momento del bacio e del saluto. Vediamo che è una scena piena di naturalezza e sentimento puro, una scena piena di realismo. Guardate le pieghe delle vesti, la lucidità della gonna del vestito di lei, questo ci riconduce proprio ad un'atmosfera temporale, piena, dove la carnalità è accentuata dalla posa. La mano di lui che cinge la guancia di lei, la mano di lei che si aggrappa alla spalla di lui e che serve sia da supporto che da appiglio per quest'amore. Il tutto portato ai massimi livelli del lirismo dal fatto che questa è una scena fugace, è un attimo che sta per consumarsi e finire. Ed è dato per esempio anche dalla posa della gamba di lui che già è sul, che pogge il piede sul primo gradino, nell'atto già di appropinquarsi ad un altro luogo. Ebbene, questo che è da sempre visto come l'emblema dell'amore di Paolo e Francesca, in realtà ha un significato simbolico che è assai lontano dall'amore passionale e l'amore come lo intendiamo noi. In realtà qua si sottintende l'alleanza franco-italica, dove il ruolo dell'Italia è dato a Paolo e il ruolo della Francia è data a Francesca, che dopo l'accordo di Plombier viene a prendere visione. Quindi è un quadro romanticamente patriottico che suggella con un grande bacio di due amanti un'alleanza assai proficua per questi due paesi. Quindi quello che molto spesso è conosciuto come l'emblema dell'amore, poi sottintende un significato assai differente. Ho voluto proprio includere questo quadro proprio per questo, perché molto spesso il significato di quelle che sono le vere direttrici dell'arte vengono ad essere sconosciute, mentre se ne vince soltanto quello che è il messaggio primario che viene fuori dall'immagine, che comunque è di qualità e di lirismo altissimo. Non potevamo finire questa carrellata di baci ignorando il bacio dell'austriaco Gustav Klimt, dipinto nel 1907-1908. Il bacio che insieme a quello di Haetz rappresenta l'immaginifico artistico della maggior parte della popolazione. Vediamo che questo è un bacio che racchiude in sé un insieme di significati simbolici. Innanzitutto appartiene come periodo artistico a quello del Liberty, ma possiamo tranquillamente dire che è un quadro ricco di simbolismo al suo interno. innanzitutto questo abbraccio fuso delle due figure sinuose, più quello della donna che non quello dell'uomo, che accoglie con le sue mani il viso della donna, che si perde e si fonde in questo bacio e si appende alla nuca di lui quasi abbandonandosi alla suavità del gesto del baciarsi. La veste di lui e la veste di lei richiamano il sesso appartenente alle due figure. Infatti la veste di lui è costellata da elementi rettangolari che richiamano appunto il sesso maschile e il sesso di lei da elementi tondi che richiamano appunto l'organo genitale femminile. Questo è il primo messaggio simbolico, l'incontro tra i due sessi. Il tutto unito in un'aura dorata, mi viene da dire, quella alone tutto attorno, costituito da cerchi concentrici con punto colorato, punto colorato che molto spesso, anzi quasi sempre, è il rosso, rosso simbolo del sacro, rosso simbolo di Dio, il colore rosso è il colore del sacro proprio nella simbologia colorifera e quindi è come se quest'unione tra i due sessi fosse immessa in quella dimensione aurea che è tipica di richiamo alla dimensione del divino e risponda a quelli che sono i principi universali che pongono il proprio centro nella divinità, in Dio. È quasi un messaggio mistico, l'incontro mistico dell'amore, il compendio dell'amore stesso imperneato in quello che è l'elemento terreno ai piedi della coppia degli amanti e l'elemento divino che si spande all'esterno di quell'involucro e che richiama il dorato della infinitezza appunto del creato di Dio. Richiami coltissimi quindi agli stilemi bizantini nella colorifera, richiami a quelle che sono invece le dottrine simbolistiche dell'epoca appunto di realizzazione del quadro e richiami anche a quelli che sono gli stilemi dello Sia e Liberti nelle forme così movimentate e nello stesso tempo spigolose di quelle che sono le figure qui rappresentate. E dopo aver goduto di questa splendida carrellata di baci celebri nella storia dell'arte a me non rimane che augurarvi uno splendido San Valentino se siete in compagnia e uno strabiliante San Valentino se invece siete single magari è proprio il giorno giusto per uscire e incontrare qualcuno di interessante. vi auguro soprattutto che sia una festa fatta di quello che secondo me è la componente più importante di tutti i rapporti amorosi sia che siano con il fidanzato, con i genitori, con gli amici tanto affetto, tanta comprensione e tanto star bene insieme rendete la vostra storia d'amore un'opera d'arte e l'unico modo di fare delle cose un'opera d'arte è metterci tantissima passione e quindi che sia un San Valentino pieno di passione per tutti tanta cioccolata perché ci sta e buon San Valentino! Ciao! Ciao!